e bom il timing qua non lo so vai al massimo subiamo uno e bom e fa niente se muove vai io cerco di non toccare il terreno volandosi sopra almeno dimmi che abbiamo finito spero check point questo lasciamolo qua no niente però sai com'è meglio aspettare prima di prenderlo però faccio uno che c'è bravo lincoln aspetta prima tiriamo questo e tienilo con te no ma dai allora facciamo così dito dito tranquillo no non tranquillo c'è una cassetta via si ma tutti nel barile mi fai resuscitare fai resuscitare bisogna passare da lì si aspetta io sto contro passo poi io aspetto si ecco con l'esperienza dirò che non è non è l'ultimo passo passo aspetta non so ferma cantero aspetta non abbiamo più vite quindi non è stretta 4 su 7 sa che è ancora lunga aspetta è remoto favore si c'è anche un puzzle no una lettera qui sotto non rompiamo perchè c'era sotto qualcosa non voglio incontrarlo una discesa ok ok vai rompine amore sei un piacere vai vai spagati spagati no è davvero uno ti danno monete vita no ancora mi sa che non si sa ah devi stare graffato yes va bene va bene va bene bene la chiudiamo qui per oggi si bene questo è tutto abbiamo registrato un po' di duelli abbiamo fallito un po' un po' tanto e niente ringraziamo Dido della sua presenza saluta Dido non ci vediamo più ciao ciao scherzo e niente commentate i video e se volete che video video che Dido torni votatelo ma no ma tanto tornerà perché tanto sono io che decido intanto aspettavo migliore e poi senza di tempo sono fottuto penso che possiamo ok ciao alla prossima ciao